Abbiamo saluto a un angelo che purtroppo non c'è più tra di noi ed è quella piccola, quell'angelo scopendo che purtroppo è venuto a mancare a Catania quindi per tutta la città di Catania ma soprattutto per questa piccola bambina stupenda che aveva tanto da vivere, solo 5 anni cerchiamo di apprezzare più la vita ma soprattutto cerchiamo di essere umani perché forse ci stiamo dimenticando cos'è l'umanità non è una cosa bella ma soprattutto non è una cosa che si può accettare c'è solo il pensiero che dovrebbe spionare un bambino, una bambina io non mi frasso proprio no perché non so fare il padre ma io non gli so dare nemmeno un rimprovero a mio figlio i bambini non si toccano, le donne non si toccano bisogna essere umani bisogna bisogna saper vivere nella vita forse parecchia gente forse lo ha dimenticato in questa vita non siamo nessuno, l'unico che può decidere è Dio noi siamo solamente di passaggio quindi se accendiamo tutti i flash di cellulare questa sera con la speranza che qualche familiare